Il comitato che nei mesi passati ha raccolto le firme a sostegno di quello che è il progetto di ristrutturazione degli ospedali esistenti del Verbano Cusiossola, vale a dire il Castelli a Verbagna, il San Biagio a Domodossola, ha consegnato questa mattina a Torino, nell'ufficio del Presidente della Giunta regionale, le firme raccolte, circa 3.000 e le 500 che sono state raccolte dalla Lega in Ossola nelle settimane scorse. 3.000 persone ci dicono oggi, Regione mantieni i due ospedali, fai interventi strutturali sui due ospedali, ma il VCO per la sua conformazione geografica, per la sua condizione anche socio-economica diversa e divisa su tre aree necessita di avere due ospedali differenti è qualcosa evidentemente di cui la Regione dovrà tenere conto, insieme alle 31 firme dei sindaci che appoggiano questa posizione. Presidente, qualcuno però potrebbe farle notare, ci sono una quarantina di sindaci che non si sono espressi sul tema a favore di questa proposta. Infatti la decisione che noi dovremmo assumere è una decisione che dovrà tenere conto di tutti gli elementi, terremo conto di ciò che ci è stato presentato nella giornata odierna, come terremo conto anche degli altri documenti che gli altri sindaci hanno comunicato, hanno trasmesso. È stato un incontro cordiale durante il quale Gian Domenico Albertella ha illustrato l'iniziativa e ha spiegato il perché della raccolta firme, ha risposto il Presidente della Giunta regionale che ha anticipato che entro gennaio il Governo regionale darà una risposta al verbano Cusiossola. Siete soddisfatti delle parole del Presidente Cirio? Abbiamo trasferito al Presidente la partecipazione dei cittadini e la volontà dei cittadini che ci hanno chiesto con forza il sostegno al progetto presentato dal Presidente di riqualificazione dei due ospedali, il San Biagio a Domodossola e il Castelli a Verbagna con i rispettivi idee, con i 180 posti letto per ciascun presidio ospedaliero e con reparti operativi. Quindi grande soddisfazione per la partecipazione e grazie al Presidente per il tempo che ci ha dedicato. La seconda cosa che abbiamo chiesto è la tempistica. Chiediamo alla Regione, i cittadini chiedono alla Regione, non noi chiediamo alla Regione, ma i cittadini chiedono di decidere con la massima urgenza. Non c'è più tempo di aspettare, la Regione ha tutti gli elementi che ha raccolto, conosce le posizioni del territorio e noi chiediamo che sia assunta una decisione con atti deliberativi nell'arco di qualche settimana. Non la spaventa che ci fosse anche a Monte un atto deliberativo per un ospedale unico, quello famoso di Ornavasso? Sì, mi ricordo dal 2015, 4 anni prima della scadenza sono lunghi. In 4 anni avrebbero potuto assumere gli atti necessari per arrivare ad una scelta che garantisse la continuità e l'irreversibilità. Questo non è stato fatto. Lei è stato il collettore di queste 31 firme che sono arrivate da parte dei sindaci a sostegno di questo progetto per una nuova sanità, che tenga conto di due realtà sanitarie nel BCO. Sì, abbiamo fatto rete, siamo riusciti a parlarci, siamo riusciti a raccogliere le firme, abbiamo rappresentato tutto il territorio. Siamo partiti facendo ragionamento, come ha detto prima anche il Presidente, che ci sono due circostanze, pre-Covid e dopo Covid. Col pre-Covid si poteva anche andare incontro a un pensiero di un ospedale unico, baricentrico e tutto, ma la pandemia ci ha insegnato che non può essere.